Noi dobbiamo aiutarli a sbocciare. Prendi l'esempio per esempio della piantina che spesso si sente dire. Se tu prendi una piantina, la metti al buio, non la innaffi, dopo un poco tu la vedi appassire. Se tu prendi una piantina, ci metti la musica, la innaffi, la metti vicino al sole, l'esposizione, quante accortezze hai? Noi dobbiamo pensare proprio così. Dobbiamo avere tutte quelle accortezze. Quindi, non lo so, l'acqua e la famiglia, l'esposizione solare in quel momento, visto che c'è la piantina, potrebbe essere in modo figurato per esempio la scuola, il parlare, la musica. Ecco, è fondamentale l'entusiasmo, l'entusiasmo, perché i nostri giovani, ce lo siamo anche detti in un'altra occasione, avvertono e percepiscono un vuoto motivazionale, no? Che, ancora prima di questo vuoto motivazionale, dobbiamo andare per sali. Cosa c'è? Il sentirsi trascurato, la mancanza della percezione, la paura che, tra virgolette, è anche positiva, là dove ti aiuta ad uscire fuori e a trovare le soluzioni, no? Quella noia a cui non sei stato mai abituato, perché la noia ti aiuta a crescere da piccolo. La noia. Vale a dire che tu puoi sempre e comunque crescere anche senza un cellulare in mano. Perché questo? Perché lo strumento, il cellulare è uno strumento che ti permette magari di conoscere, di vedere più cose. È chiaro che lì occorre un'educazione, ma crescerti e abituarti anche alla noia in alcuni momenti della giornata sviluppano in te quella creatività che poi puoi trasferire e farla diventare creatività digitale. Tant'è vero che oggi, come oggi, nei percorsi di educazione civica, il MIUR, tra l'altro, ha creato una piattaforma che si chiama, se non vado errando, il sillabo, non vorrei, ora vediamo un attimo, perché non ho ben preso il nome, però è una piattaforma nuova per le scuole, diciamo, secondarie. Questa è di secondo grado anche, che permette loro di approcciarsi all'educazione civica attraverso, quindi, l'educazione digitale con un'etica. Con un'etica. Però, tra le cinque aree, perché tocca cinque aree, tra queste cinque aree ci sarebbe proprio, che cosa? Questa creatività digitale. Da dove arriva la creatività digitale, se da piccoli non abbiamo dato anche l'opportunità di svilupparle in maniera diversa. Certo. Perché oggi come oggi, attraverso l'educazione civica, attraverso questa piattaforma, che poi non è altro che l'educazione digitale, rendendo la etica, quindi rifacendoci ai diritti, io non ti insegno soltanto il rischio, no, di utilizzare lo strumento, ti insegno anche a capire che devi avere una responsabilità, in effetti due criteri che tu vedrai in questa piattaforma sono il senso critico e la responsabilità. Grazie. Grazie.